La scuola del futuro nasce in Toscana e l'innovazione non è solo tecnologia ma soprattutto nuove strategie, orientamento e lotta alla dispersione scolastica associati a materiali didattici innovativi. Questo lo spirito dei tre intensi giorni della seconda edizione di Didacta, il più grande appuntamento fieristico dedicato alla scuola che per la seconda volta dopo l'esperienza cinquantennale in Germania è stata ospitata dalla Fortezza d'Abbasso di Firenze. Taglio del nastro al ritmo di musica con gli inni europeo, tedesco e italiano suonati dai ragazzi della rete musicale Remmuto davanti alle autorità e poi via agli oltre 185 eventi e seminari della fiera. Didacta è una grande scommessa anche per Regione Toscana e una grande soddisfazione perché Regione Toscana ha partecipato al comitato organizzatore fin da subito quindi questa è un'idea che diciamo abbiamo portato avanti insieme veramente una sfida, una scommessa con il Comune di Firenze, con la Camera di Commercio, con il MIUR, con Indire quindi la Regione Toscana c'è sempre stata e devo dire che ha un ruolo centrale anche per coinvolgere il mondo della scuola toscano. E la Toscana da padrona di casa ha partecipato in grande con uno stand di 230 metri quadrati finanziato anche con le risorse del programma operativo regionale del Fondo Sociale Europeo POR FSE 2014-2020, una vera vetrina delle eccellenze toscane con tantissimi ragazzi, 100 ogni giorno, che hanno spiegato e descritto le loro competenze e le loro aspirazioni. Questa è una fiera che non è una fiera tecnologica e per questo ci piace, c'è anche una parte naturalmente più commerciale. Ma questo è un evento sull'innovazione didattica, quindi su come si può fare scuola mantenendo la positività e quindi il valore aggiunto della nostra scuola che è una formazione profonda, però stando sempre al passo con i tempi, quindi anche collegandosi sia a quelle che sono le richieste del mondo del lavoro, ma anche a quelle che sono le competenze oggi di cittadinanza attiva, che sono certamente diverse da quelle 10, 20 o 30 anni fa. Quindi, insomma, credo che sia davvero una bella occasione di confronto, di scambio, di dialogo e di formazione. Tante infatti le occasioni di confronto offerte a docenti, dirigenti scolastici, educatori, formatori, ma anche imprenditori e naturalmente ragazzi che, ha sottolineato l'assessore regionale all'istruzione, Cristina Grieco, sono stati i veri protagonisti dell'evento, premiati anche per la loro capacità di autoimprenditorialità, con i loro prototipi, per esempio, come il seggiolino che avverte se un bambino viene lasciato in auto da solo, o come i piccoli robot in movimento, realizzati con i mattoncini delle costruzioni e poi i sensori per monitorare le strutture edili sensibili a qualsiasi minima oscillazione, oggetti, forme e colori che sono stati vere calamite per i tanti visitatori della fiera. Io chiamo un po' didacta un'occasione delle 3F perché sicuramente è una fiera, è anche la proposta commerciale di prodotti innovativi per la scuola, è un forum perché è un'occasione anche veramente di formazione, di confronto, di dibattito interessante, ma è anche una festa, cioè anche il modo per far vedere che cosa fa la scuola e per tracciare una prospettiva di cammino. Tra gli stand di didacta ancora una volta tutte le facce della scuola, dagli arredi scolastici ai materiali didattici alle tecnologie che proiettano l'istruzione nel futuro. Una proposta completa che nella prima edizione della fiera ha portato 20.000 visitatori e oltre 4.000 insegnanti nel capoluogo toscano che per tre giorni si è trasformato di nuovo nella capitale della scuola. Noi siamo grati a tutti i protagonisti di questo progetto, da didacta Germania al Ministero, alla Regione, a Firenze Fiera e tutti gli attori. Questo è il risultato di uno straordinario lavoro di squadra. Si tratta di un evento che è molto di più di una semplice fiera. che abbraccia il mondo della scuola e della formazione e che si rivolge a studenti, insegnanti, operatori, mondo delle imprese, editoria, istituzioni culturali. Didacta conferma il ruolo di Firenze, credo, come vera e propria capitale della formazione. In questa città abbiamo qualcosa come 45 università straniere, l'Istituto Universitario Europeo, centri di ricerca di eccellenza, la Tongin University di Shanghai e alcuni dei più antichi istituti di cultura. Pensate, una piccola città come Firenze di 400.000 abitanti con delle eccellenze che di solito si trovano solo nelle grandi capitali internazionali. Anche per questo il Ministero dell'Istruzione ha inserito l'appuntamento tra gli eventi previsti dal piano pluriennale di formazione dei docenti, che sono arrivati in massa per partecipare ai workshop e ai seminari della fiera. Presente al taglio del nastro anche il sottosegretario all'istruzione Salvatore Giuliano, che ha sottolineato l'importanza di un evento come didacta, capace di chiamare a raccolta le migliori esperienze della scuola, facendo della formazione la parola chiave della manifestazione. Come Ministero è la prima volta, a mia memoria, che tutte le direzioni generali dei almeno due dipartimenti, su tre in totale, partecipano compatti ad un evento di coinvolgimento della popolazione del mondo della scuola. Ampio spazio all'alternanza scuola-lavoro, all'istruzione tecnica superiore degli ITS toscani e alle possibilità di imparare un mestiere seguendo le proprie aspirazioni. Lo hanno dimostrato i ragazzi, che hanno spiegato, ad esempio, come fanno il vino, offrendone un calice ai visitatori a corse allo stand della Toscana, dove si sono svolte anche seminari nati sulla scia dell'esperienza di primi di Toscana, la sfida tra gli istituti alberghieri toscani a colpi di primi piatti che si è svolta, non a caso, nell'anno italiano del cibo. L'importante è dare ai ragazzi opportunità formative per trovare un'occupazione. Per questo, tra le novità di quest'anno, c'era anche il corner di Arti, l'agenzia regionale toscana per l'impiego di recente costituita. Di quest'anno a didacta ha debuttato Arti, la nostra neonata agenzia per l'impiego, quindi l'agenzia che racchiude tutti i centri per l'impiego di regione toscana, quindi anche questa è una novità e anche questo è un segnale della volontà di integrazione fra politiche, cioè educazione e lavoro sono i due pilastri su cui si basa il futuro, quindi se si vuole avere una visione di futuro si parte da lì, dall'educazione e dall'accompagnamento al lavoro. Lotta alla dispersione scolastica al centro anche dell'evento annuale del programma operativo regionale POR FSE 2014-2020, a cui è stata dedicata un'intera giornata di lavori, nella quale è stata anche lanciata la nuova iniziativa Giovani Sea Lab, testimonial il cantante toscano Lorenzo Baglioni, anche lui insegnante, tra un congiuntivo e un terremo matematico messi in musica. Il programma toscano del Fondo Sociale Europeo ha una dotazione di sette 732 milioni di euro e allo stato attuale è stato movimentato il 61% delle risorse, con 17.290 progetti realizzati e 673.593 destinatari raggiunti, con il 35% delle risorse destinate ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni. Noi abbiamo un obiettivo prioritario che è quello del successo scolastico e formativo, quindi lavoriamo per abbattere il tasso di abbandono scolastico, di dispersione e anche la percentuale dei net, net, che dir si voglia, che sono i giovani che sono fuori da percorsi di studio e di lavoro. In questi ultimi tre anni abbiamo fatto un percorso importante perché abbiamo abbassato del 30% sia l'abbandono che il tasso dei net, naturalmente vogliamo continuare perché la Toscana è una regione virtuosa nello spendere i fondi comunitari e siamo anche orgogliosi di spenderli bene.